Grazie all'approccio multi-actor del progetto Skin siamo entrati a contatto con diverse realtà, non solo dal punto di vista accademico, ma anche da un punto di vista pratico. Quindi durante gli incontri che sono stati organizzati in questi tre anni di attività abbiamo visto le aziende, siamo andati nei punti dove il prodotto viene lavorato, viene venduto, abbiamo incontrato associazioni di categoria, di produttori, di consumatori. Questo ci ha permesso di avvicinarci e capire meglio quali sono le loro esigenze, quali sono le problematiche e da un punto di vista di condivisione e di knowledge transfer il progetto vuole proprio risolvere questi problemi e dare anche una continuità al discorso della filiera corta. Possiamo dire che c'è un forte interesse anche sia da parte dei produttori, dei consumatori, ma anche da parte dei policy maker. Questo fa ben sperare che nel tempo alcune proposte di legge possano essere approvate e quindi dare un ampio respiro a chi davvero crede nella filiera corta.